Perché stiamo portando tutte quelle infrastrutture, quei posti di lavoro che per 50 anni i chiacchieroni di sinistra hanno sempre promesso e non hanno mai realizzato? E penso ai miliardi che stiamo investendo in campagna, per strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, a Salerno, metropolitane a Salerno come a Napoli, l'alta velocità, la Roma-Napoli-Bari, il lavoro sui porti, l'allargamento dei porti. Quindi questo è quello che da Ministro dei Trasporti sto portando. E poi la Lega è quella che mantiene la parola, pensiamo al tema della casa. Dopo tante chiacchiere il decreto salva casa va a regolarizzare, va a sanare tantissimi piccoli problemi nelle case di milioni di cittadini a sud come a nord. Quindi la cameretta, il tinello, il soppalco, la veranda, la tenda, la vetrata, la parete in cartongesso, la grondaia. Appena il decreto sarà in gazzetta ufficiale, quindi questa settimana uno può andare in comune, paga quello che deve e torna liberamente padrone di casa sua e di casa sua fa quello che vuole. La Lega è stata uno dei pochi partiti in tutta Europa che ha sempre votato contro questa follia pseudo-green. È la carne sintetica, è il formaggio finto, è la farina di insetti, la farina di grilli, è il pesce surgelato che arriva dall'altra parte del mondo. L'uomo è ciò che mangia, quindi se mangia bene l'uomo viene su bene e soprattutto noi difendiamo il lavoro. Lavoro degli allevatori, dei pescatori, dei contadini, dall'attacco delle multinazionali straniere che se potessero farebbero sparire i prodotti italiani perché non riescono a copiarli. Tutto qua. Ma sbaglia chi parla, il candidato è mio, il candidato è mio. Io non chiedo niente, non impongo niente, non pretendo niente. Lavoro per un centrodestra unito e se negli anni passati il centrodestra in campagna non è mai stato competitivo è perché ha litigato, è perché appunto i partiti dicevano faccio io, no candido io, no vinco io. Il risultato si perdeva e vinceva De Luca sostanzialmente senza avversari. Quindi la Lega non vede l'ora di dare il suo contributo, io non pretendo niente, metteremo persone a disposizione. È fondamentale che però il sistema De Luca abbia un'alternativa per i cittadini a Salerno come a Napoli perché se le cose non funzionano e purtroppo tante cose non funzionano negli ospedali piuttosto che lungo le strade o nelle scuole, non è colpa della Lega che in campagna non ha mai governato neanche mezzo minuto. Né è colpa dell'autonomia che non c'è, è colpa dell'incapacità di governo di De Luca e di chi non riesce a fare quello che ha promesso di fare. Grazie a tutti.